Un inizio di stagione da dimenticare a Eraclea Minoa. Già in 15 hanno perso il lavoro e se non si trova una soluzione che possa far indietreggiare l'inarrestabile invasione delle mareggiate verso l'entroterra, il numero di chi sarà costretto a chiudere i battenti aumenterà. Ad abbassare le saracinesche il ristorante Lido Garibaldi, che dava lavoro a tre famiglie, in tutto appunto 15 persone. Il locale è stato chiuso temporaneamente dal comune per i pericoli legati all'erosione costiera, dove le continue forti mareggiate hanno ulteriormente aggravato la situazione del litorale e non ci sono più le condizioni di sicurezza per l'ingresso allo stabilimento da anni meta di VIP politici. E sono diversi inoltre i turisti che hanno disdetto le prenotazioni di alloggi per l'estate 2018. Dopo aver distrutto la spiaggia, inghiottito centinaia di alberi e parte delle strade d'accesso al litorale, l'erosione costiera comincia ad aggredire anche le attività commerciali. E questi sono solo i primi danni all'economia locale legati al fenomeno dell'erosione della costa. Resistono ancora il camping Eraclea Minoa Village ed il Lido Bellevue, sfidando la continua avanzata del mare che ha già distrutto il chiosco sulla spiaggia. Il litorale è ormai off-limits dopo le ordinanze della Capitaneria di Portempedocle del comune e adesso anche della regione, dove giorni fa è stata discussa la problematica. Attraverso un'assemblea pubblica promossa dall'opposizione si è fatto il punto della situazione anche alla luce delle audizioni in Commissione Territorio Ambiente a Lars. Si attende adesso, entro le prossime due settimane, la decisione della regione per capire se, attraverso un intervento urgente della protezione civile, si possa provvedere alla posa di una barriera Paramassi per frenare l'avanzare del mare, in attesa di un'opera di salvaguardia definitiva che richiederebbe tempi più lunghi. Intanto, l'istanza di finanziamento del progetto di circa 5 milioni di euro redatto dal comune, come ammette lo stesso sindaco Santino Borsellino, non è stato presentato in tempo.